Da anni proponiamo un servizio di stampa in abbonamento che prevede di pagare il numero di pagine stampate e non l'inchiostro utilizzato, ricevendo a casa cartuccio o flaconi prima che l'inchiostro si esaurisca. Questo programma si chiama ReadyPrint e prevede una serie di abbonamenti flessibili proprio basati sul numero di pagine stampate ogni mese. Ci sono i piani ReadyPrint Flex che partono da 99 centesimi al mese, pensate il costo di un caffè e sono pensate per quelle persone che stampano meno di 10 pagine al mese utilizzando la propria stampante con cartucce. Ma perché riva stampare fino a 3.000 pagine al mese abbiamo un abbonamento ReadyPrint EcoTank che prevede di ricevere a casa incomodato d'uso una stampante conservatoi con un canone mensile a partire da 4,99 euro centesimi e un costo di attivazione una tantum di 79,99 euro. Il risparmio è davvero importante, fino al 70% con ReadyPrint Flex e fino al 90% con ReadyPrint EcoTank. Le stampante su cui è possibile attivare l'abbonamento rilevano il livello degli inchiostri e il servizio permette di ricevere a casa tua flaconi o cartucce prima che l'inchiostro si esaurisca. Indipendentemente da quanto stampano, oggi i nostri clienti non corrono più il rischio di rimanere senza inchiostro.